Buongiorno amici, come va? Uso YouTube perché YouTube è l'unico che sta funzionando ancora, ma richiedo di condividere il più possibile, il mio canale è demonetizzato, non lo chiedo per guadagnarci quindi non ci guadagno niente, lo faccio per voi. È da due ore che Whatsapp è giù e Facebook è giù. Queste come sono stato informato, ne ho già parlato nel mio TG, sono prove tecniche di dittatura mondiale, ovviamente i media diranno che no, che i servono, ho avuto problemi. Sto parlando di un problema mondiale, ho chiamato in America il mio telefono e non funziona, ho chiamato in Francia e non funziona, in Italia non funziona. L'unica cosa che sta funzionando al momento è soltanto Signal, Signal sta funzionando per mandare audio ma non per chiamare. Quindi come ho detto, come mi ha informato la massoneria, sappiatelo, hanno fatto il rito di fuoco, dopo il rito di fuoco ci sarà il blackout, ma il blackout era previsto per fine anno, quindi ottobre, novembre, c'era più a fine anno. Secondo me stanno già facendo le prove tecniche di regime. Non è un qualcosa che sta accadendo in Italia, è un qualcosa che sta accadendo in tutto il mondo. Sappiate questo, non è in Italia, è in tutto il mondo. Fate delle prove. Facebook non funziona da due ore, non funziona Telegram. E in più ho visto, cioè Telegram funzionava ma stava ralentando, Instagram è giù, lo stesso. Per chi può accelerare il piano B, per chi non può uscire dall'Italia organizzatevi come vi ho detto, in tutti i modi. No panic, ovviamente no panic, usate la testa, però è da mesi che ve lo dico. Queste sono prove di regime. In più, notizia di un'ora fa il traditore Biden, l'ira di Biden, meteorite in arrivo sull'economia USA. L'America potrebbe andare in default e se l'America va in default si porta indietro tutti quei paesi di merda legati all'America, come l'Unione Europea. Quindi mi raccomando... Lo dice Morris Sun e io volevo dargli spazio. Morris Sun, secondo lui Biden ha detto che gli USA potrebbero fallire.